Abbiamo predisposto una legge per le start-up perché crediamo che occorra ricreare un clima positivo per l'imprenditorialità, soprattutto per quella innovativa, che serva a rilanciare lo sviluppo di impresa, soprattutto quella che ha una altissima tecnologia, un'altissima ricerca innovativa, un trasferimento tecnologico e che possa anche servire come investimento sui giovani, sulle nuove generazioni che hanno, dopo la laurea, delle idee da sviluppare. Vorremmo trattenere la maggior parte di coloro che hanno alta specialità e che magari hanno un'idea da sviluppare, creando un ecosistema favorevole all'idea di impresa, all'innovazione. In questa legge è contenuto, abbiamo preparato una misura che riesca a sviluppare quella innovatività del mondo dell'impresa attraverso gli incubatori, attraverso gli acceleratori d'impresa, favorendone l'aggregazione e favorendone tutto quello che è imprenditorialità. Questo è il tema con cui noi ci presenteremo in aula, con questa nostra proposta di legge che favorisce la rinascita delle start-up che come avete visto nei dati vede le marche molto indietro rispetto alle altre regioni. Ecco, lo vogliamo recuperare su questo tema e vorremmo dare speranza a chi ha voglia di sviluppare delle idee innovative facendole diventare impresa.